Le indagini conosciute con il nome di Mani Pulite scoperchiarono un pozzo di illegalità, di corruttele, di rapporti inquinati tra politica ed economia. Ci fu in quel momento una sacrosanta ripulsa nell'opinione pubblica. Ci si attendeva a quel punto quindi una reazione politica e anche legislativa. Le istituzioni erano chiamate a varare misure capaci di contrastare e di prevenire il più possibile il ripetersi di un fenomeno tanto devastante.